Amici, buona giornata, benvenuti all'appuntamento numero 340 dell'edicola del Trap, appuntamento che riprende dopo due giorni di sosta forzata, una forza che ovviamente abbiamo in qualche modo dovuto subire per problemi tecnici. Avete visto subito in collegamento il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ringrazio immediatamente per questa sua presenza ed è importantissimo perché oggi il sindaco è appena reduce da un'impresa, bisogna sottolinearlo, perché quando si dice che Ancona non risponde, che ormai il calcio appartiene ad un'altra sfera, è riuscito in un piccolo miracolo, in un'impresa, quella di coagulare attorno a sé, alla propria prestigio e alla propria iniziativa, cosa che non tutti i sindaci capiscono, delle forze positive di una città che vuole ripartire sapendo che il calcio non è soltanto un fatto sportivo. Allora Daniele, innanzitutto il punto della situazione, oggi dovrebbe arrivare ufficialmente il disco verde. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno al direttore. Oggi il Consiglio federale si riunirà per verificare e per ratificare la documentazione che il presidente protempore dell'SSC Ancona ha depositato nella giornata di ieri, entro i termini dell'ora 18 e con comprensivo ovviamente degli assegni necessari per coprire l'indenità di esubero. Ecco, quindi stiamo in attesa, anche perché questa ratifica poi consentirà la compagno di società di aspettare tutti gli altri adempimenti entro l'11 di luglio. Ecco, Sindaco, io credo che sia forse un momento storico per Ancona al di là della serie D, cioè il momento in cui Ancona si ritrova e capisce che bisogna fare qualcosa. Ecco, io parto per primo, nel senso che l'invito è a fare l'abbonamento per la prossima stagione, che si vada o che non si vada allo stadio, per fare qualche cosa, insomma, che dia la testimonianza di una risposta importante che la città deve. Gadda e Guerini è un terno all'otto quello che è riuscito a mettere insieme, perché significa non tanto un'operazione nostalgia, ma un'operazione serietà. Sì, beh, io credo che i tifosi, ma la città di Ancona nel suo complesso, giustamente lei faceva riferimento a un contesto che non è solo sportivo e calcistico, ma anche socio-sportivo. E questo tipo di situazione aveva colto di sorpresa tutti, soprattutto aveva colpito negativamente la città. Il coinvolgimento di Mr. Gadda, che è comunque allenatore, che ha avuto i suoi già risultati, Giallo Scorfano, Corri di Ravenna, il suo staff, insomma, che ha dimostrato competenza. Si collinea perfettamente con quello che è lì nell'immaginario anconetano, la figura di garanzia, una figura di tutto rispetto, che fa parte completamente della storia dell'Ancona a calcio, a pari merito di quello che fu il suo allenatore, e cioè di Mr. Guerini, che si è reso disponibile a ricoprire la carica di presidente e di poter in qualche modo rappresentare l'ulteriore forma di garanzia e la cinghia di trasmissione fra la società e la tifoseria tutta. Ecco, io vedo che tra l'altro ci sono ancora problemi di linea, quelli che hanno condizionato le ultime due trasmissioni. E allora, Sindaco, nel concludere questo collegamento, qual è il prossimo step? Una volta avuta questa ratifica, entro l'11 la società sportiva dovrà depositare un'altra fiduzione per iscrizione alla Lega Nazionale di Serie D e poi ovviamente entriamo nel vivo dell'aspetto tecnico, quindi ci sarà una campagna acquisti che sarà piuttosto compresa nei tempi, il coinvolgimento del vivaio, di quelle organizzazioni giovanili che sono rimaste legate al progetto Ancona a calcio e poi si attenderà il calendario. A quel punto sapremo il girone, soprattutto quelli che saranno i competitors dell'Ancona. Bene, grazie, grazie alla Sindaco Silvetti, complimenti per questa autentica impresa e allora ci risentiremo presto. Grazie, grazie a lei direttore, a presto.